Abbiamo avuto una risposta veramente quasi inaspettata. Diciamo che noi effettivamente abbiamo iniziato la campagna vaccinale il 31 dicembre, naturalmente con gli operatori sanitari e sociosanitari. Abbiamo vaccinato oltre 2.000 persone di questa fascia e poi da una decina di giorni abbiamo iniziato con gli ultraottandenni. C'è stata una grossa sensibilizzazione fra gli anziani. La risposta è stata veramente massiva. Si sono prenotati sulla piattaforma per quanto riguarda il nostro territorio oltre 5.000 anziani. Da noi naturalmente afferiranno gli anziani deambulanti. Fino ad adesso controllando il numero dei prenotati siamo intorno ai 3.000 prenotati. Come geriatra ho visto questa fascia di anziani veramente attaccata a questa speranza di vita. Come tutti sappiamo la fascia che è stata più falcidiata è stata proprio quella degli ultraottantenni. Quindi vedono in questo vaccino una speranza di vita anche per loro. Stiamo somministrando il Pfizer-BioNTech anche perché questo ospedale è hub per lo stoccaggio proprio di questo vaccino essendo dotato di un frigorifero che mantiene le temperature molto basse quindi a meno 80. La AstraZeneca è arrivata nell'ASL però molto probabilmente verrà utilizzata più che altro per la vaccinazione a docendi alle forze dell'ordine. Un vaccino che ha una maggiore maneggevolezza proprio per le caratteristiche di temperatura non ha bisogno di una diluzione particolare e verrà molto probabilmente utilizzata essenzialmente dal territorio quindi dai punti vaccinali territoriali. Per chi ancora non è stato magari contattato per la somministrazione dei vaccini? Si sarà contattato man mano perché diciamo le convocazioni vengono fatte diciamo afferendo alla piattaforma, si inserisce il numero di pazienti e di soggetti che noi vogliamo vaccinare in una giornata, automaticamente secondo le prenotazioni che hanno effettuato sulla piattaforma la piattaforma stessa ci fornisce i nominativi. Noi adesso ci stiamo muovendo un po' come zone territoriali nel senso che con un accordo che abbiamo trovato un po' con l'altro punto vaccinale territoriale che è il south di Leggiano, noi adesso ci stiamo occupando un po' più dei paesi della zona nord proprio per favorire i pazienti gli oltreottantenni a non fare viaggi più lunghi mentre loro si stanno occupando un po' dei paesi dei soggetti oltreottantenni dei paesi della zona centro-sud.